Buongiorno a tutti, mi chiamo Roberto, sono della Golmar, sono un'azienda di Torino che opera in tutta Italia. Abbiamo deciso quest'anno di seguire l'Androni Giocattoli Sidermech perché crediamo molto nel ciclismo. Sappiamo che è uno sport che viene visto da tutta Italia da tantissimi fans. La scelta di Androni è perché conosciamo bene Savio, conosciamo bene il direttore sportivo e sappiamo che è una persona che si occupa di ciclismo da una vita ed è molto capace e tutte le volte crea sempre e trova sempre dei personaggi di assoluto livello. Per cui invito tutti i partecipanti al giro a guardare le nostre squadre, guardare l'Androni Giocattoli Sidermech Golmar che possano portare altri sponsor all'interno della squadra Androni Giocattoli. Androni Giocattoli Sidermech Golmar che possano portare le nostre squadre,